Un anno davvero importante per la comunità di Sala Consilina che ha potuto festeggiare tanti concittadini che hanno raggiunto il rilevante traguardo del secolo di vita. Ieri sera l'amministrazione comunale di Sala Consilina con il sindaco Francesco Cavallone e l'assessore alla cultura Francesco Spinelli hanno portato gli auguri di tutta la comunità salese alla signora Agnese Coiro che, nata il 19 dicembre del 1921, ha compiuto i suoi cento anni di vita. Un importante compleanno che si aggiunge ai tanti centenari festeggiati quest'anno a Sala Consilina. Cento anni di vita che sono anche trascorsi tra i cambiamenti burrascosi di un'epoca. In giovane età la signora Agnese con i suoi coetanei hanno visto e vissuto le tragedie della guerra, hanno toccato con mano la povertà post bellica, hanno costruito con le loro mani il futuro ed hanno scoperto le novità tecnologiche introdotte al servizio delle famiglie, ma soprattutto la signora Agnese Coiro e i suoi coetanei che quest'anno hanno festeggiato i cento anni di vita, hanno conosciuto ed hanno vissuto mettendo al centro del loro essere i valori veri della vita. Una nuova centenaria Sala Consilina che si spera possa essere anche di insegnamento alle nuove generazioni che davanti ai loro occhi possano ripercorrere e tornare ad essere padroni di quei valori di umanità e socialità che hanno contraddistinto alla vita del passato. Ieri sera, per l'importante compleanno, oltre ai familiari della signora Agnese Coiro, che hanno circondato di affetto la festeggiata, c'era anche il sindaco di Sala Consilina Francesco Cavallone, accompagnato dall'assessore Spinelli, che omaggiando la signora Coiro di una targa commemorativa a nome di tutta l'amministrazione comunale, ha evidenziato come il 2021 sia stato l'anno dei centenari, avendone festeggiati 6 nel corso di quest'anno e che tali importanti traguardi certificano come a Sala Consilina si viva bene.